bellissima giornata bellissima pietra con bellissime fessure adesso tirato via dei massi qua perché perché il pointer mi dice che c'è ferro lì vediamo lo stavo passando qua questo che dice qualcosa lì poi lo passo qua impazzisce e che ti vedo moneta monetazza incastrata così adesso lo tiro fuori l'avrei vista perché lì è vista però il pointer mi dà una mano nelle fessure è ovvio che poi le pulisco comunque però so già cosa aspettarmi pezzi di ferro e monete adesso vediamo in diretta che cos'è sarà la solita moneta degli anni 40 vediamo cos'è se riesco a tirarlo fuori allora vediamo un po' vediamo un po' vediamo un po' come la tiro fuori sembra facile ma non lo è vorrei rovinarla ma è maledettamente incastrata togliere questa togliere questa pietra se riesco e maledettamente incastrata no devo provare ad usare questo ragazzi volevo tirarla fuori in diretta ma l'è dura la vedo dura ma l'è riballa dai che viene dai dai vabbè appoggiamo il telefonino un attimo va vediamo se trova una pietra vediamo se trova una pietra che ritenga il telefonino in posizione allora la moneta è qua il telefonino lo mettiamo qua così si 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 eh signore ma questa è bella poi sono un paio di pinzette che non ho, le devo portare dietro non ho, le devo portare incredibile ilo 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 ecco perché nessuno l'ha tirata fuori perché non viene mannaggia non viene non viene non viene non viene un po che cos'è vediamo un po 50 centesimi bellino 42 ci avrei giurato è stata dura ma ce l'abbiamo fatta sono già marci adesso continuo a pulire la fessura questo tipo qua sotto mi da ferro a più tardi ciao